L'importanza risiede nel fatto che i cittadini argentani sanno o possono contare sul fatto di essere proprietari di un'azienda estremamente aperta all'innovazione e che guarda avanti anche sul piano tecnico-tecnologico. Soelli è infatti di proprietà dei cittadini di Argenta perché è al 100% del comune di Argenta. I temi delle fonti rinnovabili, i temi del risparmio energetico, i temi dell'efficienza energetica della generazione distribuita sono tutti argomenti, temi con i quali dovremo sempre di più fare i conti. Abbiamo un impianto fotovoltaico da fonte rinnovabile, stiamo promuovendo il risparmio energetico, stiamo portando avanti dei progetti di risparmio energetico con il comune di Argenta. Avremo presto l'inaugurazione dell'impianto di generazione da biogas della discarica. Il prossimo inverno ci vedrà impegnatissimi sul fronte delle famiglie proprio nello sviluppare questa cultura del risparmio energetico per risparmiare soprattutto sul riscaldamento attraverso le manutenzioni adeguate degli impianti, attraverso comportamenti corretti. Abbiamo realizzato questo impianto fotovoltaico da 50 kW, è formato da 288 pannelli di silicio policristallino, ogni pannello ha una potenza da 170 Watt di picco, è suddiviso in stringhe da 16 pannelli, questi pannelli vengono convogliati a 9 inverter, 9 inverter elaborano i dati in bassa tensione e viene poi inviata tutta la corrente prodotta a un trasformatore e dal trasformatore arriva al collegamento connessione Enel. È stata predisposta una struttura esterna per accedere più facilmente al tetto, è stato progettato l'impianto orientato perfettamente a sud in maniera ad avere il massimo rendimento possibile dai pannelli, i pannelli si inseriscono in determinati binari che vengono poi fissati sulla parte posteriore da delle viti. Dopodichè abbiamo fatto tutta la parte elettrica, la parte elettrica consiste nel collegare in serie le stringhe dei 16 pannelli e vengono convogliate in doppia stringa agli inverter, quindi voi vi trovate 16 pannelli più 16 pannelli che vanno ad un inverter e per 9 fanno 288 pannelli. La spesa è stata grossomodo intorno ai 280 mila euro, presumiamo di fare una produzione annua di circa 60 mila kilowattora annui in maniera ad avere un rientro annuale di circa 27 mila euro. Abbiamo calcolato che il costo per la manutenzione dell'impianto è molto basso a circa lo 0,5%, quindi i tempi di ammortamento dell'impianto grossomodo si aggireranno sugli 11-12 anni. Grazie. 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 Grazie.